5 fatti psicologici sui cani Senso del tempo Gli scienziati hanno dimostrato che i cani non capiscono la differenza tra un'ora e cinque ore. In determinate condizioni, possono prevedere eventi futuri, come segni di una passeggiata regolare e un programma di alimentazione. Starnutisce I cani in realtà starnutiscono quando giocano per dimostrare che stanno solo giocando e non vogliono davvero farti del male. Contatto visivo Stabilire un contatto visivo ogni volta che il tuo cane ti fissa negli occhi quando sta facendo i suoi bisogni significa che si sente vulnerabile e si fida di te per occuparti della situazione. Zoom Gli zoom sono brevi esplosioni di energia che il tuo cane semplicemente non può controllare. Questo comportamento si vede solo in cani felici e sani. Uno sguardo silenzioso che ti fa sentire in colpa. Potresti sentirti in colpa quando catturi lo sguardo di un cane che ti fissa in silenzio prima che tu debba uscire di casa. Ma non aver paura.